Ancora pochi giorni si sta per chiudere lo stato di emergenza di pandemia del quale hanno sofferto tante attività. Le palestre sono una delle categorie che ha sofferto di più in questo senso, ma c'è chi come Caterina Dini ha avuto il coraggio, la sfrontatezza, non so come chiamarla, di aprire questa attività proprio in questo periodo? Sicuramente coraggio e sfrontatezza perché diciamo che il mio progetto nasceva alla fine del 2019 e ho deciso comunque di portarlo avanti perché ho sfruttato anche il discorso dell'allenamento personalizzato e del fatto che io lavoro principalmente con il one to one. Inevitabili le difficoltà in questo periodo con tante applicazioni di regola a cui nessuna attività di questo genere era abituata? Sì, diciamo che per la persona capire il contesto centro personal training all'inizio è un po' difficile perché ovviamente il costo e la qualità del servizio sono diversi da quelli di una palestra. Però è anche vero che poi pian piano facendo conoscere, apprezzare il fatto che la persona si sente seguita, fa tutto un percorso dove vede insomma progressi e risultati che va a fare, alla fine comprende quello che è il valore di quello che offro diciamo. Conosciamo un po' meglio anche le attività del fitness studio di Caterina Dini che si trova in zona Tombaccia in Via Lugo. Allora nel mio fitness studio si parte da una prima consulenza conoscitiva che al momento è gratuita dove la persona viene e mi dice l'obiettivo. Tra i vari obiettivi ci sono ricomposizione corporea e dimagrimento, anche specifico per il target over 50 che è solitamente quello che si approccia un po' di meno alla palestra perché ha paura di non essere all'altezza. Powerlifting e natural bodybuilding, di cui io sono anche atleta e con i quali ho creato la squadra Powerbuilding Marche. Poi la rieducazione motoria che è un percorso post fisioterapia e della ginnastica posturale proprio specifica dove praticamente cerchiamo anche di affrontare problematiche non operabili sotto prescrizione anche del medico.